I toni saranno pure scherzosi ma ad aprire la contraerea sulle parole del Premier comincia il governatore della Puglia. È impressionante lo stile di Enrico Letta in televisione, una specie di forlani del terzo millennio, dice Niki Vendola. Che Letta nell'intervista sia stato particolarmente abbottonato, lo precisa anche Lucia Annunziata. Non dico che ci abbia dato molte notizie, rivela in conclusione. E tuttavia quella mezz'ora di parole scatena un bel vespaio di risposte incrociate, soprattutto su un punto. Di chi è la responsabilità dell'aumento dell'IVA? Letta lo ha messo in conto al governo Berlusconi, ma Fabrizio Cicchitto, PDL, dice che va invece ascritto al governo Monti. E così la pensa anche Renato Brunetta. Sono norme del governo Monti, non di quello Berlusconi, come superficialmente affermato, dice Brunetta. Superficialmente o no, arriva subito la controreplica e arriva naturalmente da parte di Scelta Civica attraverso il portavoce Benedetto della Vedova. Letta dice una verità storica, quell'aumento venne deciso proprio da Berlusconi, anche se dietro la foglia di fico della clausola di salvaguardia. E questo dovrebbe cancellare i toni propagandistici con cui molti esponenti del PDL affrontano la discussione. Discussione che comunque rimane tutta in piedi perché, cronistoria a parte, su IMU e IVA non si transige, dice il senatore PDL Maurizio Gasparri, per il quale lo spazio annunziata è solo a propaganda per la sinistra. È vero o no che la crescita dell'IVA farebbe cadere i consumi, si chiede Gasparri. La risposta è sì e dovrebbe conoscerla anche Enrico Letta. Dal quale Letta fa sapere la portavoce PDL, Anna Maria Bernini, ci aspettavamo soluzioni, non auspici. Inutili entrambi, sembra dire Beppe Grillo, che entra di forza nella polemica. Altro che rinvio dell'IMU, aspettando Godò l'Italia muore. Qualcuno sano di mente può davvero credere che il nostro paese possa crescere dell'1% nella seconda metà dell'anno, si chiede Grillo. E poi la conclusione, il governo si trastulla e l'Italia rischia il default. La parola d'ordine è una, ristrutturare subito il nostro debito, oppure lo faranno altri. E noi, sentenza Grillo, faremo la fine della Grecia. Grazie. 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 Grazie.